Ciao a tutti ragazzi, siamo qui in Minecraft per fare una fabbrica di uova. Allora, ci serve innanzitutto un blocco qualunque. Una botola, un blocco di vetro, dell'acqua, un cartello e l'uovo di gallina. Cominciamo mettendo dei blocchi in questo modo. Quello dietro alto 3 e quelli di lato alto 2. Allora, adesso io lo farò di 2 perché non mi va di prolungare tanto il video. Allora, lo faccio di 3, vabbè, non fa niente, uguale. Adesso sto però un attimo per non farvi annoiare. Questa è la forma che dovrebbe avere una volta finita la struttura. Poi prendiamo le botole e le mettiamo al terzo blocco. sopra ognuno. Poi scaviamo una scaletta per andare sottoterra. Poi andiamo al terzo blocco e scaviamo tre sottoterra ad ognuna. Vabbè, adesso che ho rotto la botola. a la rispetta del graninetto. Allora. non sarà tanto utile, ma a me è stata utile per fare molte torte. e poi anche carina perché avvederete il vostro mondo. Allora, scavarete così e poi la parete. Allora, poi bisogna mettere un cartello sotto all'ultimo blocco di ogni gabbia. Adesso, scusate ma ci ha telefonato qualcuno ma non gli ho risposto. Allora, continuiamo mettendo una botola per fermare l'acqua, se no ce ne andrebbe tutta quanta via. Risaliamo. Allora, prendiamo l'acqua e la mettiamo sotto i due blocchi della botola. Allora, così, poi prendiamo un uovo di gallina, lo mettiamo dentro ogni gabbia, chiudiamo, così. Adesso, piano tutto quanto le botole. Scendiamo per la nostra scaletta e qui ogni volta l'istinto della gallina è salire a gala. Quindi ogni volta che lei farà un uovo si depositerà qui. Noi, basta che scendiamo, apriamo la botola, andiamo qui e lo prenderemo. Qui funziona ogni cosa. Con questo il video è finito. Se mettete mi piace, iscrivetevi e commentate. Commentate sulle cose che vi servono e i video che vi aiuteranno. E noi, basta ce lo farete sapere e noi ve li faremo vedere. Arrivederci. Alla prossima. Grazie. Grazie.